Ciao, sono Sissi, questo è il mio primo video e cercherò di farti rilassare e addormentare. Ti farò ascoltare questi suoni e ti farò compagnia in questa notte. Come stai? Questa sera ho un regalo per te, un fiore. Alla prossima. Alla prossima. Spero che questo suono riesca a rilassarti. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.